Benvenuto al mio SEO Lotto, dove faccio accomodare persone interessanti con le loro interessanti idee su business e marketing. Il mitico mega menu, quando e soprattutto perché decidere di implementarlo? Inizia con questa domanda la mia chiacchierata con Walid Gapteni di Light on SEO, che spazierà nelle prossime puntate su tanti altri temi, tutti molto interessanti. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti al SEO Lotto. Oggi sono qui con il mio amico Walid Gapteni. Ciao Walid. Ciao Emanuele, ciao a tutti. E oggi parliamo di una roba di cui voglio parlare da tanto tempo e so che Walid secondo me c'ha delle robe da dire su questa cosina qua, che è il mega menu e diciamo con la scusa del mega menu parlare un po' di struttura, soprattutto dell'e-commerce, perché Walid tu mi insegni il mega menu ha senso più o meno solo in quei contesti lì, sei d'accordo? No, veramente no, però l'e-commerce è... No, ci sono dei siti che non sono e-commerce, dei siti molto, come dire, grossi, con tantissimi contenuti, tante categorie diverse in cui il mega menu ci sta, ma il problema non è il mega menu, e quando viene fatto senza alcuna considerazione sulle priorità, diciamo. Certo, io con mega menu, per intenderci, intendo quei menu che includono perlomeno tutte le pagine di, chiamiamole le tassonomie, cioè tutte le pagine che hanno in cascata delle figlie che possono essere categorie di un e-commerce. Poi, sì, il mega menu in realtà può avere senso, per esempio, in un sito di listing, può avere senso in un sito, come dici tu, dove ci sono tante, tante pagine, e secondo me è proprio... può avere un senso dove ci sono tante, tante categorie, cioè tante pagine che raccolgono. Per mega menu io intendo anche quei menu, secondo me, agghiaccianti, dove la gente si sente in dovere di mettere, per esempio, i post con le thumbnail, delle immagini, delle robe artificiose, arzigogolate, magari caricate in JavaScript, così Google il 90% delle volte non le riesce a vedere perché sono implementate male, senza caching o senza niente del genere. E come dici tu, io ho un... come si dice, ho dell'antipatia verso il mega menu perché spesso viene implementato, per quello che è la mia esperienza parlando con i clienti, come dici tu, senza fare troppe considerazioni, perché si ha la paura che le persone non riescono a vedere determinate pagine, quando secondo me invece è una questione di esperienza sul sito, far vedere le pagine, anzi, essere una cosa, una voce tra cento voci e una voce tra cinque voci, è chiaro che nel secondo caso questa singola voce sarà più visibile. Assolutamente, sì sì sì, troppo informazioni e alla fine danno l'effetto inverso. Poi lo stesso impatto ce l'abbiamo sul pagerank, è la cosa di cui mi premuro. Cioè, secondo me, io quando entro dentro a un e-commerce a fare una consulenza, la prima cosa che chiedo è che cosa fai, cosa vendi, ma non hai delle cose più importanti di altre da vendere? Cioè, guardiamo per esempio il tuo mega menu, ma è tutto importante uguale? A livello anche commerciale, perché spesso negli e-commerce io vedo che ci sono dei prodotti, adesso mi viene questa parola impropria, non so perché, prodotti corollari, cioè dei prodotti che possono, come dire, far parte della stesso acquisto, mi viene in mente, fa ridere, però mi viene in mente, proprio perché ultimamente ci sto lavorando, un sexy shop, che ci sono tutti i vari giochi, diciamo che non menziono per non essere censurato da Spreaker, ma insieme magari vendi i lubrificanti o le pile, perché per questi giochini qua servono le batterie, per intenderci, però, per esempio, le batterie non sono una roba che deve stare nel menu di un sexy shop, secondo me può essere un'opzione nel carrello, ma vuoi comprare insieme a questa cosa delle batterie, e ho tolto una voce dal menu, l'ho reso meno confusionario, ho mandato peggere anche più sui giochini che voglio posizionare, ho fatto una cosa migliore, questo è un mini intervento, diciamo. Tu che esperienze hai con i mega menu sbagliati, diciamo? L'errore principale, allora, io il problema non è contro il mega menu di per sé, ancora una volta è veramente quando è fatto senza alcuna considerazione, quando vai a studiare la strategia di visibilità, o quello che dovrebbe essere la strategia di visibilità, ti rendi conto che appunto hanno messo allo stesso livello tutte le categorie, tutti i prodotti, mentre, come dicevi tu giustamente, non tutti sono importanti, il mio problema, ancora una volta, è quando questa cosa non è controllata ed è fatta a prescindere, senza alcuna, senza tener conto dell'analisi che è stata fatta, lo spero, ad hoc, prima. Esatto, esatto, auspicabilmente fatta, ecco, il problema è che spesso questa analisi non c'è. Sì, esatto, quindi, poi c'è il discorso del PageRank, appunto ne dobbiamo tener conto, perché ovviamente più aggiungi link nel menu, quindi più avrai delle pagine sul sito che contengono molti, tanti link interni, quindi tanta diluzione del PageRank. Sì, sì. Questa diluzione può avere un vantaggio o uno svantaggio, dipende dalla strategia di visibilità. Se miri un posizionamento su delle chiave molto generiche, quelle che matchano con le macro-categorie, diciamo, non ha veramente troppo senso aprire il mega-menu, avere dei mega-menu, forse ti conviene avere dei menu molto più snelli, appunto per dare la priorità a queste pagine. Poi una volta che l'utente è arrivato sulla categoria, magari può trovare le sottocategorie. Per alcuni siti e-commerce ti accorgi, quando hai fatto l'analisi delle parole chiave, che la maggior parte del business deve venire dalle pagine prodotto o le pagine di sottocategorie, che sembrano meno importanti a livello di volumi di ricerca, però messe tutte insieme ti accorgi che rappresentano la maggior parte del traffico potenziale. A questo punto c'è una considerazione da fare, forse queste pagine sono più strategiche che le macro-categorie. Allora lì mi torna la riflessione sulla possibilità di usare dei mega-menu in modo tale di riavvicinare le pagine di sottocategorie e di conseguenza le pagine prodotto, quindi le pagine profonde, di riavvicinarle alla home page, ma non solo alla home page, a tutte le pagine del sito, diciamo di risparmiare un click. Sì, sì. Questo ti costa una diluzione del page rank, ma forse questa diluzione è un vantaggio alla fine. Strategica. Sì, perché sicuramente facendo così perdi un po' di page rank sulle macro-categorie che dovranno per forza condividere il page rank con più pagine. Sì, certo. Ma nello stesso tempo dai un vantaggio a tutte queste pagine profonde che in realtà nel tuo caso sono strategiche. Non ho niente contro il mega-menu. Il mio problema è quando le cose vengano fatte senza riflettere e potrei dire anche l'inverso. C'è questa moda del SEO siloing che ti dice è la strategia che dovete seguire se avete tante categorie, eccetera. È sbagliato generalizzare? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Quello del silo è una generalizzazione contro la quale ho fatto diverse discussioni nel senso che la struttura del sito deve essere, come dici tu, costruita dopo un'attenta analisi e non è detto che ci voglia il silo, non è detto che ci voglia il mega-menu e soprattutto non sono neanche delle vie esclusive. Una non esclude l'altra a livello di struttura. Si può fare un mix, ma io spesso e volentieri mi trovo... Io lavoro quando cerco di posizionare qualcosa, soprattutto quando si parla di una mamma con i figli, come può essere la categoria di un e-commerce. Ci deve essere, secondo me, un legame a livello semantico. Io chiamo proprio i cluster semantici, cioè c'è al centro una pagina delle figlie che sviluppano un certo discorso. Se vogliamo parlare di ottimizzazione su parole chiave, diciamo generaliste, non nomi di prodotto specifici. Sul mega-menu, per esempio, prima mentre parlavi mi veniva in mente che ci sono dei siti, cioè dipendentemente da cosa si vende, come lo si vende, esistono delle situazioni differenti. Cioè, come giustamente dici tu, spesso c'è lo specchietto per le allodole della pagina di categoria, che sono magari delle query più ambigue, con più volume di ricerca, quando in realtà uno non solo ottiene spesso più traffico sulle pagine di prodotto, ma sulle pagine di prodotto converti di più. Perché se uno cerca il prodotto direttamente, lo trova al prezzo giusto, con le condizioni di spedizione giuste, e lo legge nel momento giusto in cui c'è il portafoglio già mezzo aperto perché voleva comprarsi questa cosa qua, ti compra la roba. E invece metterlo davanti alla scelta e al rimuginare può essere addirittura controproducente da questo punto di vista. Poi benvenga che si posizioni sia la pagina di categoria che la pagina prodotto, per carità. Assolutamente. Però soprattutto con dei prodotti, con dei nomi molto specifici, come possono essere per esempio alcuni sex toys di alcune marche che hanno proprio dei volumi di ricerca loro perché sono, che ne so, stati pubblicizzati, trattati in questa e in quella rivista. Per esempio, fa ridere, molti non lo sanno, ma su Pornhub ci sono le recensioni di molte di queste robe qua. Quindi questo crea ricerca? Sì, 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 certo. Crea consapevolezza e crea ricerca. Ci sono come gli youtuber che fanno le recensioni dei telefoni, ci sono quelli che fanno con proprio le attrici, gli attori che li provano in quel momento lì, le recensioni di questo, quel giochino lì. Fa molto ridere. Tra l'altro così avete la scusa anche di andare su Pornhub e farvi beccare che stavate studiando la SEO. Altra cosa sulle chiavi generiche, veramente bisogna tener conto di questo. Ora, anche dopo l'ultimo aggiornamento, l'ultimo core update, ci accorgiamo che sono meno stabili. Ok, parliamo di maggio, di core update. Scusa, non si ti interrompo, ma visto che magari questa cosa venga ascoltata tra sei anni, maggio 2020, per essere precisi, scusami. Grande Emanuele, hai fatto benissimo. Ci accorgiamo che le posizioni meno stabili spesso sono legate a delle chiavi generiche, su cui Google ha affinato, migliorato la sua percezione dell'intenzione di ricerca, che ovviamente è molto più incerta quando la chiave è generica. Quindi lavorare anche sulle chiavi di coda lunga molto specifiche, oltre a portarti delle visite più targettizzate, ti dà anche delle posizioni più stabili. Non sempre, però in generale è così. E quando studi i siti che hanno perso tanto traffico, spesso le perdite più grosse provengono appunto di queste chiave più generiche. è l'ambiguità. Essendo che lui di base forse non ci ha capito ancora niente, quando inizia a capirci qualcosa o pensa ad averlo fatto e stravolge la SERP, uno può scendere perché magari la SERP diventa locale, perché la SERP inizia ad apparire, una SERP diventa una SERP di video. Mi è capitato di vederlo. Se si posizionano solo video, dopo sono problemi se tu hai una pagina di un blog. Sì, assolutamente. Ora, per esempio, ad esempio, parlavi del settore un po' adult, ci sono delle query che da un update all'altro erano delle query adult, poi sono diventate mainstream, dove tutti i siti adult sono spariti. E ora, dopo l'ultimo update, sono ritornate adult. E lì ti sto parlando di query veramente, come si dice, delle query larghe. Alto volume. Sì, delle query alto volume generiche, scusa. Ok. E lì non c'è mega menu che tenga? No, lì purtroppo non c'è mega menu che tenga. Tu puoi fare quello che vuoi. Se Google ha deciso che la query ha tale intenzione di ricerca, non ci puoi fare niente. Allora, tornando a bomba sui mega menu. Lo chiedo prima a te, e poi vediamo se siamo d'accordo. Così faccio anche la figura dell'intelligente. Faccio parlare a te che sei più bravo. Mega menu quando si fa? Assolutamente. Secondo te? Quando è una scelta giusta? Anzi, assolutamente è una brutta parola. Quando è una scelta giusta il mega menu? Secondo te? Quando andrebbe implementato? Ti ripeto quello... Scusami, ma ti devo ripetere quello che ho detto prima. Secondo me è giusto quando hai deciso che strategicamente devi puntare sulle pagine profonde, sul business di Coda Lunga. Allora, a questo punto, il mega menu è la scelta giusta per garantire a queste pagine profonde di avere i più page rank. Però, può essere non obbligatorio, anche in questo caso, se il settore non è troppo concorrenziale. Perché poi benissimo decidere di non usare il mega menu, quindi di volontariamente, scusami, non massimizzare il page rank di queste pagine profonde, perché anche se gli arriva poco, magari questo poco gli basta. Chiaro. Non sono delle scelte facili, perché tutto questo non è semplice per scipirlo prima. No, per nulla. Infatti, bravo, dicevo bravo perché hai anticipato una mia riflessione barra appunto. Cioè, il mega menu ha un problema grosso, cioè che rende necessaria a parità di prodotti, essendo che tu di base decidi che ci sono più pagine che devono posizionarsi, che sono importanti, perché nel menu tu tendi, dovresti perlomeno tendere a mettere le pagine più importanti del sito o, come dico io, quelle che fanno partire un'esperienza che ti porta alla conversione. Cioè, tu tracci i sentieri che portano al raggiungimento dell'obiettivo che tu ti poni per il sito da parte degli utenti, che può essere comprare, arrivare a iscriversi, vedere la tua pagina perché così ti senti bello e importante e qualsiasi obiettivo abbia il sito, richiedono più link perché ci vuole, come si dice, ci vuole più page rank da spingere giù da questa struttura, no? Assolutamente. Cioè, penso sia una scelta sempre molto, tra virgolette, che va ponderata perché è coraggiosa. Come dici tu, tu hai detto la parola magica, cioè a bassa concorrenza. Se tu sei un settore a bassa concorrenza o stai posizionando dei prodotti con dei nomi molto specifici ma già conosciuti perché hai brandizzato tu un certo prodotto con un certo nome, è un conto e ti posizionerai e ci sta di metterlo nel menu perché magari uno che arriva sul sito della Duracell per esempio e cerca la P, la Pippo e si aspetta di trovarla nel menu perché la vista in tv la deve comprare e anche dalla SEO a parte che la Duracell probabilmente prenderà relativamente tanti link che poi non è neanche detto a dire la verità e comunque un brand famoso prenderà tanti link ha meno problemi da questo senso ma se tu pensi dal mega menu di posizionare dei prodotti con dei nomi generici con lo stesso nome di mille altri e-commerce non branded o multi-brand come può essere il tuo diventa tosta cioè dopo devi spingere di più perché anche il crawl budget è minore rispetto al numero di link che hai e non è detto neanche che dal menu Google arrivi a vedere tutte le cose quando hai 200, 300, 500 voci come mi è capitato di vedere. Assolutamente e poi fai bene a parlare dei link dei backlinks quindi i link che provengono da altri siti perché me lo sono scordato ma anche questo è un parametro importante nella scelta della tipologia di navigazione dell'architettura del sito perché scelere in mega menu o non mega menu è una scelta di come gestiamo il page rank interno del sito poi la quantità di page rank che circola qualsiasi sia stata la nostra decisione dipende in parte in grande parte di tutti quei link che abbiamo in entrata chiaro perché fare un mega menu con due backlink da due directory marce non è una grande idea se uno vuole avere un pelo di traffico su un prodotto io soprattutto nei progetti diciamo in nascita e in crescita dico sempre che ci vuole della gerarchia perché noi lavoriamo con una scarsità di risorse cioè una scarsità di page rank e bisogna convogliarlo sulle pagine che ci fanno partire il business che ci fa partire il sito che ci fa lavorare ci fa funzionare da subito poi più avanti si possono prendere delle decisioni e aprire questa cosa certo assolutamente assolutamente e poi c'è anche il discorso della user experience beh devo dire che abbiamo resistito più del previsto sullo stesso argomento e Walid ci lasciamo prendere dall'entusiasmo diciamo quando parliamo e nella prossima puntata siamo passati a parlare del javascript e di come nascondere davvero cose a google tramite il codice anche nel mega menu secondo me dovreste ascoltarla detto questo se ti è piaciuto il podcast ti invito ad iscriverti allo show e se hai ancora fame di SEO a visitare www.evxp.it dove troverai tantissimi contenuti gratuiti e il mio progetto di divulgazione SEO avanzata e di Patreon grazie ancora per la tua attenzione e alla prossima ciao ciao